siamo in attacco io voto outback mi fa cagare diamante 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 champion smeraldo diamante diamante ok allora let's go vediamo what we can do what we can do what we can do what we can do sperando di non venire sconchillato da qualche luogo oscuro hanno mio hanno post questo è un assist mio e poi per ieri a una cosa c'era una cosa non posso brecciare perché c'è uno nel closet aspetta non lo so non sono sicuro più prima lo era mi sono usciti in due sono due in school due in school due sono giù sono in school she was in school but it's cool but it's cool but it's great ah è su kids 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 sei solo uno pieno thank you and karen kids bravo buono ok cioè quello mi ha run outato con goyo mentre che quello mi piccava da da school neri per farvi capire vedevo che il mio tu non usciva rimango con la mano resta sul mouse con la mano sinistra prendo il palino mi picca in quel momento ci prendiamo vabbè som capisci che è anche difficile eh sì dipende pure dalla partita ma stai non so vai di nuovo va bene tanto c'ho comunque che è visto che non hanno bandit chat MUTTERS No, hanno MUTTER Non hanno MUT, ma hanno Bandit sul bridge Ok C'è uno in Vai Rotti due SHOCKWARE SHOCKWARE Tricca, mi sa Ma non può triccare No, è sraiato in trofi Non posso bruciare Classroom Classroom Tricca No, non ha VIT È ancora in Classroom No, è ancora in Classroom Morto, ok, era NUCCATO Non ho capito Quanti colpi gli avevano dovuto sparare a questi Eh, guarda Dove sono? Eh, non so Uno qua sul ping 3 Granata Venite in trofi Master ad SMED Non ti piccate boche Injure Ma vanno tutti a terra questi Ai che palle Oh, ma che è? Mio Dio Guarda qui Tutti a terra vanno questi Bella la skin Mio Dio Che due coglioni Sempre a terra E lo so, guarda Ma quello quante colpi mi hanno fatto sprecare a terra Oh Ai, 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 ai Che palle, oh Sto noccato di m***a Mi ha bloccato Manca la Ghiri mi sono preso, capi? Cioè quando non lo dovi aprirmi in realtà Quanti droni? Nessuno viene con me da meeting Aspetta un secondo Arrivo Ha rotto il mute Tu sei garage? Uno smoke C'è smoke in blu Garage è pulito Guarda Zulu Uno sul ping 3 Zulu pulito C'è smoke in blu No Quello è morto col defuser lì Ha pushato blu È finito Quello ovviamente è pulito Ah fuck Qua mi ha ucciso voglio capirlo Non sto capendo Ma i miei colpi comunque non sono entrati C'è uno Zulu 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 Jager Ma che non mi cambia Ma i miei colpi raga non sono entrati Prendi carico Ci vediamo dall'altra parte Zulu Questo mi vede prima ma lo sto beccando anche io Al fishp Madonna ma ha prefairato di nuovo Fortissimo Jager In questo caso dovevamo vederci entrambi Praticamente Instant Doveva vedermi prima lui Uno pillar Feritissimo pillar Mi piace molto la camrotta Scale 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 Maestro Mi piace tutta la camrotta con quello sulle scale Ok Andiamo in difesa Va Non ha senso Non ha senso Sta roba Non ha senso Non sarebbe bilanciato Esatto Io al massimo farei tipo una cosa insieme no? Tipo non mi dico libera al massimo Dove giochi tutti Esatto Aspetto non mi mettono libera e non classificato Non fallerà anche da zero Di certo il rank è da zero Cioè non per noi è per loro più che altro Noi è anche per noi perché noi saleremo molto più facilmente Ciao B Appunto Dico per loro Per la loro sanità mentale Addirittura Beh no perché va a quel paese La loro sanità mentale dopo Ok Se si giocano a Rainbow Six Ne è che Ho inventato eh Ovunque Ovunque Ragazzi c'è un drone Sì In realtà ce ne sono come insalti 9 Ottimo Grande Ma la 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 da Nord Mi te l'ho già data? Eh La la da Nord Mi te l'ho già data? O te la danno Insieme all'Iriana Segre Allora Morda Zoff Raga mi verrà pure Warden ve lo dico eh Meno vogliono bracciare Dove? Eh main bridge Morda Zoff L'hanno taccerato però non hanno Uno forse è sul tetto o in master Sì vogliono bracciare Meno boh L'hanno taccerato ma non sta facendo niente Ok C4 piazzato Morda master Dove? Fuori master Fuori master Ancora fuori master Sì A sinistra Ancora fuori master Madonna Ok Ora hanno autato Che è ci stavo ammazzando Questo non sa il significato di drop shot O non sa quando si fa un drop shot Effettivamente Anche se i drop shot sono passati da tipo 5 anni Esatto da quando non puoi più No da 3 anni e mezzo 4 Grazie Da quando non puoi più mirare Allora Una cam La mettiamo Qua Il muro è rinforzato No da 3 anni e mezzo No ma sono io i Jager No No Ma io lo riporto comunque Per trolling Non avevo neanche lo scuro Io lo riporto Io ti riporto Non avevo neanche lo scuro Perché se neanche sapeva di essere Jager No io pensavo ci fosse smoke Invece no Non c'è neanche smoke Ma io vi rinforzato Alla gente Però Beh Invece c'è No Stavo un po' di me È proprio bravo Eh Però di certo non ci mette Cioè Non Non Ci metto una di S Per chi vuole Però io non ci vado Ok Vabbè Anzi ci sto io Così Per il meno Per forti Fuori Vabbè C'è no C'è stabile C'è dock a heavy fuori Con il DMR Ci ha distrutto Laounder Audio Occhio La squadra d'attacco Ha trovato una bomba Porco Due Che sta Eeeh Va bene Non ho vinto Una di fila Mi ha switchato Tutte Va benissimo Così Oh Oh Mio Dio Ragazzi Allora Questa qua c'è Tutti fuori Of Due Outsider E Tre Insiders Volevo fare Anche rotation Eh si sai Devo farne 18 Di rotation Noi madonna ragazzi Questi mi sono rotti I coglioni Mi hanno rotto Porco due anni I droni Ovunque Di cosa faccio io Di meeting Però non sa piazzare Gli ads Ma io devo ancora levare il merino A sta arma Fuck Oh no Non abbiamo rinforzato Il botolo Beh Dopo la robin Non è rinforzata Mi metto in sicurezza Ma io devo levare il merino A sta arma Fuck Sound Forse uno garage Uno 90 Blu lo sto dando io Ce ne sta almeno uno Fuori blu Probabilmente due Che cosa Che cosa prendo Iager Oh Scala l'op Iager è 1hp Iager Morto Scala l'op Iban È in Armory Credo in Armory Uno fuori blu Ancora sledge Silenzio Sound Voglio sound Voglio sound Morto sledge Blu Dove È in Scale Meeting One meeting Che cam hai Oltre a quella di Freezer 90 Basta Blu Ho preso la cam Ho preso la cam Ho preso la cam Rompetela cam In boiler In pillar Rompetela cam in pillar Lobby Freezer Lobby freezer Iban ha aperto Freezer Iban ha aperto Iban è ancora blu Su scale Iban è morto Blu l'ultimo Sul ping Sul ping Head in steel Dove un HP Electrical In fire mi ha fatto Dove un po' Dove te rompere la cam In pillar No 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 Dai 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 che ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa Stealing B Dove tenere la mia o no? The full plant, he got the Cap-cap-cap On the ping, on the ping Clema, clema, clema Nice Nice one Un colpo di popolo a un metro di distanza Non muore, l'uso, il fire non mi sa un colpo Dai 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 che ce la facciamo Partita complicata Dunque quello si sta lamentando Una cap-cap-cap-cap-can mi ha ucciso Erano tre Si è preso tre cap-cap-can in meeting Vabbè Una cap-cap-cap-cap-cap-can Erano tre proprio in fila steccati Vabbè ragazzo Molto sveglio diciamo Il brù non sa contare Porco tu non sa proprio vedere Una cap-cap-cap-cap-can e tre in fila Vabbè se la chiamiamo una Questo in matematica aveva due Porco due, sì, c'era io Ficca ma non c'è Ace Gli metto tre, Capkan In guarda roba No, ancora devo levare Il mirino su sta merda E poi io credo Ancora probabilmente cambiare Cosa che era Su Vigil, le impact, credo Facciamo che era la cam Vabbè, ma è sempre così Sto per rompere il Capkan su Vigil Ti giuro, madonna, quanto ti stappavo Lo stappavo Non lo stappavo Non lo stappavo È una bottiglia Ok Vediamo se prendono In stanzino le Cap Speriamo Magari salta il Breacher Vediamo Chi va in posizione Ah, che bella struttura Che cosa? Quale struttura? Gona pronta a curare Questa qua Ieri ne ho visto una migliore Dopo te vi ho la foto Hanno rotto i Bandit Ma dove? Ah, dal 10 LoL E' pure il Touch Cioè, gli ho già rotti Ma Ma a lui Non gliene fregava niente Che lui è un Fra Un'altra Un'altra EMP Perché non le hanno rotte Non le hanno brecciato Allà che Allà che i miei tre Capkan Uno è lì ma gli altri quattro? Eh, un Fuse era fuori attico Che gli ho levato La carica Uno è fuori la mia finestra Attico Cioè, il Closet è clear Sono solamente bedroom O fuori bedroom O troppo Fuse è morto Troppo è morto? Troppo è morto? Continuo a guardare Attico io Avete info? Bedroom Oh no Dai così ragazzi Bene, bene Dai che la stiamo recuperando Let's go Io ti rompo I cosi Allora, io mi metto a sinistra sotto la finestra Tu dal camioncino comunque da sinistra Mi devi mirare la finestra Perché poco fa Mi hanno rannautato da quella finestra Ok Quella sopra Alla finestra? Quella sopra del bridge Sì, sì Tu mi devi coprire quella finestra No, mi hanno rannautato Da quella finestra Ah ok Quindi mi metto qua A caso Sì, basta che non ti fai ammazzare Sponchillare Sì, mi devi controlla quella finestra Perché sicuramente Sentiranno Se vuoi la holdo io Così tu puoi andare al bridge Ah sì Io metto le due claim Alla sinistra A parte che sono nomad Posso metterci un aereo Sì, fallo Ma per sicurezza ci rimango anche Se nemmai che Oddio, lo bruci, eh Cioè Insomma Lo bruci un po' Lergio Ma Lo metto sotto Devo mettere Perché se lo metto sopra Non salta Dai, c'ho pure Mamma mia C'ho il laser pure Su zom Bianco 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 totalmente E così C'è una spontanea domanda Perché? C'è un buco alla finestra sopra Aspetta Eh, no matto No matto Fa mazza Mi muori già bollato Vedi che è bucata, eh Secondo me già bocca Vai per il bridge C4 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 Come non sei morto tu? È lontanissimo Hanno messo una zami Non sulla window Però si mette la window Tiene uno in armory Sarà un po' complicato Entrare Venga Datti una mano Eh, il problema è quello in armory Tipo di fuggire Tutti i buchi Più alla sotto Dove? Meeting Armonist è clear Non so dove sia finito Era alibi, eh Quella che era Era la cella della posa della botola Ok Ok, io sto coprendo trofe Morto Alibi Buono kids Morto Buono Madonna abbiamo fatto un rimontone Questi erano complicati in difesa GGs Ai 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 Lo date il sole Cazzo pensando a quei cap Vediamo quanto ci danno Domani quanti ne abbiamo ragazzi No, 94 Diamante Ma tu non sei importante Ma tu non sei il protagonista Ma no, ma no Ma vai via vai Va, te ne è bustato di merda